Ieri mattina a Sondrio presentazione del nuovo anno accademico di UNITRE, l'Università delle Tre Età. Sarà il 32esimo anno di attività per l'Associazione Sondriese, presieduta da Maria Luisa Arista. Il 31esimo si è bruscamente interrotto il 21 febbraio, a causa della pandemia. Iniziative culturali, conferenze, laboratori, visite guidate e corsi terranno compagnia ai numerosi soci di UNITRE. L'anno scorso se ne contarono 300, appartenenti a differenti fasce d'età, alcuni provenienti anche da fuori provincia. Non solo cultura e istruzione, l'Università della Terza Età vuole essere anche momento di socialità e di relazione. Nel corso dell'incontro è stilato un bilancio dello scorso anno accademico. Nonostante la sospensione, 42 le lezioni relative alle diverse discipline e i temi di attualità. Sette i laboratori che hanno previsto corsi di lingua inglese, ginnastica, computer, storia dell'arte e cucina. Costante per tutto l'anno il funzionamento del club di Bridge, attivo tre pomeriggia alla settimana. Anche durante il lockdown alcune attività e incontri sono proseguiti. L'inaugurazione vera e propria del nuovo anno accademico è fissata per venerdì 30 ottobre. Le difficoltà, noi abbiamo fiducia di poter ancora svolgere il nostro programma. Apriremo quest'anno con la prolusione su Raffaello, che sarà tenuta dalla professoressa Balzarini dell'Università di Milano. Ma ci sarà un'anteprima all'apertura vera e propria con una conferenza del professor Guglielmo Scaramellini sul Sacro Macello. Tra i due appuntamenti è prevista la visita al Castel Masegra, dove sono esposti in questi giorni i quadri del pittore Angelo Vaninetti. Vedremo il castello sotto il profilo storico, lo vedremo sotto il profilo ambientalistico e anche artistico per quanto riguarda questi quadri di un pittore valtelinese. Riparte anche la ginnastica, seguendo le disposizioni anti-Covid. La ginnastica verrà fatta su tre corsi, ognuno con dieci partecipanti, quindi per mantenere distanziamento e quindi in sicurezza. La palestra verrà sanificata ad ogni cambio di partecipanti. Non cambierà il format degli incontri promossi dall'Associazione di Volontariato, rivolta a tutti indipendentemente dall'età e dal titolo di studio. Noi non cambiamo proposta perché noi lavoriamo tre giorni a settimana, offriamo tre conferenze a settimana, lo stesso sarà in questo anno.